andiamo a vedere il bici che chiama che ha preso qualcosa che è padrì? bello! oh ma come va quel fucile di un po'? madonna, è una precisione di una potenza unica ma poi c'è l'impureo vieni qua, vieni, fammi riprendere questo penso che se fai un attacco del genere su 110 devi darmi almeno 5 giri faccio vedere i studenti da vicino bello! 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 bruciato bene grazie a tutti!